Ad Agropoli continua la protesta contro l'istituzione del senso unico in via Moio. Questa volta è sceso in campo l'avvocato Giovanni Basile, in qualità di cittadino della contrada Moio, per sollecitare il ripristino della viabilità. Basile è intervenuto diffidando e invitando il sindaco Franco Alfieri, in qualità di sindaco e di responsabile cittadino della protezione civile, ad attivare di nuovo il doppio senso di marcia. Secondo l'avvocato, la soluzione adottata nei riguardi della viabilità non risolve ma genera notevoli pericoli all'incolumità dei cittadini residenti ai fruttori della strada. Inoltre, tale decisione non risulterebbe presa in relazione ad indicazioni conseguenti a studi di viabilità, ma conseguenti alla richiesta di un marginale gruppo di persone che hanno sottoscritto una richiesta in tal senso. Riguardo a questo, Basile vuole conoscere i nominativi di queste persone, per estendere anche a loro la responsabilità, e chiede la partecipazione dei consiglieri di minoranza, Abate, Malandrino, Rizzo e Diluccio, al fine di attivarsi nell'accedere agli atti in caso di inerzia dell'ente. Nel frattempo, oggi, alle ore 18, Basile invita tutti per una riunione al bar serpentone di Contrada Moio, di Agropoli, al fine di valutare azioni urgenti da mettere in atto per istituire nuovamente il doppio senso di marcia. In conclusione, come afferma Giovanni Basile, chi sbaglia paga.